torna a palermo continua la attività frenetica il clima presidente io li cito solo an passant perché altrimenti prenderebbero troppo tempo in quei due mesi paolo borsellino ha si deve occupare di darman forte ai suoi due giovani colleghi camassa e russo che si trovano una delle quante i quali si trova a dover interrogare domenico signorino e allo stesso tempo si trova a dover supportare quel suo pavido collega dottor scaduti che ha ricevuto la visita del lotaio massone pietro ferraro che gli aveva raccomandato un processo e quale processo presidente come sempre sempre quello capitano basino per fortuna che lo raccontò a paolo borsellino perché almeno fu garantito l'esito di quel processo del resto presidente lo hanno spiegato i figli di paolo borsellino non so se lucia o manfredi non ricordo quali fossero le gravi valutazioni che in quei giorni in quelle settimane paolo borsellino faceva sul dottor salvatore scaduti il quale ha avuto poi qui a dibattimento il coraggio veramente stupefacente di buttare fango sul fratello di paolo borsellino con una affermazione che veramente lascia dubbi sul modo di pensare in quel momento di quel dichiarante che stava parlando di quale fosse l'angoscia di paolo borsellino nel periodo successivo al 23 maggio del 1992 e noi abbiamo scoperto un dato inedito non lo conosceva nessuno solo scaduti quindi si deve occupare anche di quello e si deve occupare anche di un'altra cosa presidente noi sappiamo poi come alla criminal poll poi in qualche modo tradotta nel gruppo falcone borsellino arrivino degli stupefacenti funzionari di polizia dal nord Italia ma ce n'era uno in sicilia che era il più bravo e il più serio di tutti uomo di fiducia di paolo borsellino che paolo borsellino si voleva portare a palermo e giusto quello il vertice del viminale nella persona del dottor Luigi Rossi impedisce che possa andare a collaborare con paolo borsellino a palermo si chiama calogero germanà credo calogero sicuramente rino germanà sappiamo che fine fa presidente anzi che fine rischia di fare un po' la fa si salva in modo incredibile sulla spiaggia di mazzara immagino da quelle parti rino germanà non poteva andare alla criminal poll a collaborare con paolo borsellino in quei giorni subito dopo la morte di paolo borsellino si è potuto venire quel soggetto a nome vincenzo ricciardi questo è cos'altro dice paolo borsellino a sua moglie presidente sappiamo le dichiarazioni sono in atti sto vedendo la mafia in diretta abbassa le finestre perché dal castello utveggio ci spiano non ho sentito nessun commento nella lunghissima requisitoria presidente che è un'amnesia oppure paolo borsellino si inventava fantasie sulle alture di palermo presidente veramente questa è una vergogna veramente oppure agnesia borsellino se l'è inventata non c'è soluzione delle due l'una o paolo borsellino vede il castello utveggio come una postazione di pericolo oppure ha preso in giro sua moglie oppure sua moglie ha preso in giro noi presidente secondo me senza ignominia una sola se ne può scegliere altra cosa tornando dalla trasferta romana ho respirato aria di morte presidente anche qui siamo più o meno a livello del generale subranni punciuto c'è un uomo che da anni da lustri si occupa di mafiosi li fa arrestare li fa condannare per gravissimi delitti e vede la mafia in diretta quando vede soggetti istituzionali e respira aria di morte nei palazzi del potere presidente purtroppo era morto 17 anni prima per paolo pasolini ma lei ha idea di che cosa avrebbe scritto su quella frase di agnese borsellino di paolo borsellino che respira odore di morte nei palazzi del potere e lì si arriva al 21 luglio del al 19 luglio del 1992 ed è il momento in cui noi sappiamo che alle 16 58 e 20 secondi secondo l'istituto sismologico esplode via da meglio presidente per me la visuale è abbastanza buona se forse si potesse spegnere qualche luce forse eviterebbe il contrasto no 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 naturalmente non di mettere al buio intendevo che forse ad esempio quella luce e spegniamo questa luce qui dietro in maniera che diventi meglio visibile perché così com'è purtroppo non si vede bene allora presidente sì ebbene averli ben presente in testa i luoghi dei fatti perché si evita di prendere cantonate o comunque è più difficile prenderle questa è l'immagine di via da meglio dall'alto dopo l'esplosione dell'autobomba fiat 126 e presidente io questo contributo che vedrete sarà preziosissimo ve l'ho potuto dare non per mie capacità ma grazie soprattutto a una persona che mi ha collaborato che si chiama Angelo Garavaglia che ha reso possibile vedere alcune cose che secondo me la corte non aveva avuto modo di cogliere del tutto noi abbiamo in quella in quell'immagine io poi presidente per comodità della corte tanto sono tratti da dati probatori già acquisiti consegnerò poi un dvd che contiene tutte le immagini noi là possiamo vedere tutti o meglio molti dei punti principali dello scenario di morte possiamo vedere dove si trovava l'auto da cui era sceso Paolo Borsellino che si trovava più avanti rispetto al luogo in cui si è formato il cratere si vede il luogo in cui si è formato il cratere si vede il luogo in cui sarà trovato nelle condizioni in cui sarà trovato il cadavere di Paolo Borsellino me lo faccia chiamare così si vede l'ingresso esattamente il cancelletto dove c'era il microfono che egli aveva pigiato questo è lo scenario lo scenario ha anche delle misure ve la dico a voce la distanza fra l'esplosione il luogo il cratere e ecco si vedeva ora non si vede più ma si vedeva il famoso muro e il famoso giardino la distanza è 25 metri Presidente basta leggere il capo di imputazione i capi di imputazione B vada a memoria E E le devastazioni sappiamo i danni che ci furono lì i danni dei palazzi non dei muri dei palazzi furono ben oltre 25 metri possiamo partire con lo scorrimento delle immagini questa è una ripresa che viene da Via Autonomia Siciliana sappiamo che Via D'Amelio è in quel punto un segmento perché trova appunto fine nel muretto che dà sul giardino e parte da Via Autonomia Siciliana questa immagine viene da Via Autonomia Siciliana e guarda in direzione lo si vede del fumo le immagini sono inserite in ordine cronologico queste sono le prime le altre sono col passare dei minuti noi sappiamo che fra le prime persone ad arrivare ci fu l'onorevole Giuseppe Ayala lo sappiamo perché perché in quel momento dimorava al residence Marbella che si trova a poche centinaia di metri dai luoghi vide sentì l'esplosione vide il fumo e sappiamo che subito si precipitò giù accompagnato dai due uomini di scorta che si chiamavano quelli di quel giorno si chiamano Farinella e Desimone arriva davanti a Via D'Amelio lasciano la macchina nel punto di intersecazione di Via D'Amelio con via dell'autonomia siciliana e si precipitano sui luoghi e infatti qui ancora non ci sono tantissime persone Ayala è subito visibile vista la sua altezza fossi stato io non sarei comparto in nessuna immagine Ayala compare quasi dappertutto come vedete non sono i fumi finali non ci sono ancora vigili del fuoco tranne quello che sta operando in questo momento sulla destra ferma e c'è lì vicino un ufficiale dei carabinieri che si chiama Giovanni Arcangioli o Arcangioli non ho capito ancora io dire la verità se sia sdrucciola o piana lo chiamano Arcangioli e Giovanni Arcangioli era in quel momento un ufficiale del nucleo operativo dei carabinieri già da qualche anno siamo il 19 luglio del 1992 il comandante del gruppo dei carabinieri di Palermo successore del colonnello Mori è il colonnello Emilio Borghini possiamo andare avanti Arcangioli in quella quella immagine ultima che abbiamo visto non si è ancora allontanato dai luoghi con la borsa di Paolo Porsellino in mano ci sono alcuni soggetti che sono stati come dire segnalati solo perché compaiono spesso o intorno ad Arcangioli o intorno ad Ayala magari non avranno invece alcun rievo sullo scenario però li abbiamo indicati vedete Ayala sulla destra che quindi sta cercando di capire un po' Arcangioli si trova dall'altra parte rispetto a Ayala e è nella zona dell'auto di Paolo Porsellino nel frattempo sono arrivati sono arrivate le camionette dei vigili del fuoco quello è la visuale verso via autonomia siciliana dal lato opposto rispetto all'esplosione infatti vediamo che già sono state bloccate le persone e lì c'è una marea di curiosi o comunque di gente che assiste questo è un soggetto che spesso rivedremo intorno alle due persone di cui ho detto e all'estrema destra vedete il dottor Ayala un po' Grazie a tutti. Quindi si vedono questi due soggetti che potrebbero anche essere degli agenti di scorta a riposo che in quel momento si trovavano in zona, che si regarono lì. Quello è Farinella e l'altro è Desimone. Farinella è un testimone decisivo sui fatti della borsa. Si sta riavvicinando ai punti nevralgici. Grazie. 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 La mano scappa all'altro orecchio per poter conversare perché è facile immaginare quali fossero i rumori. Allora lì abbiamo il capitano Giovanni Arcangioli che è molto preoccupato dei cadaveri, dei brandelli umani, con passo da passeggiata Sorgnona ha in mano la borsa di Paolo Borsellini. Ora Presidente io su queste immagini vorrei che la Corte facesse una valutazione anche in diritto, nel senso, ora ripartiremo un po' da dietro per vedere come si muove il capitano Arcangioli con in mano la borsa di Paolo Borsellino e voi mi dite se quella è il modo di agire di un ufficiale dei carabinieri che sta cercando di mettere in salvo qualcosa ai fini dell'interesse pubblico e dell'accertamento dei fatti oppure è uno che ha preso in qualche modo possesso di qualcosa e la sta portando via con passo, ripeto Sorgnone, se torniamo indietro di pochi secondi ricominciamo, guardate, così come uno che si trova a passare di lì per caso. Badate, in quel momento non parla con nessuno, non si ferma con nessuno perché ha una missione. Il punto da cui è partito, lo vedete lì dietro, si è visto poco fa, c'era vicino il generale Borsellini. Lui avanza e va, noi lo sappiamo, verso via dell'autonomia siciliana. Le scritture vi hanno indicato dove si trova l'auto del generale Borghini e un po' più spostata l'auto di Ayala. Eccolo lì, dove sta andando Arcangioli, verso via dell'autonomia siciliana. Cioè, badate bene, c'è lì il suo capo, che è il comandante del gruppo dei carabinieri di Palermo. Lui invece va, dopo essere partito da un punto che è vicino al luogo del suo capo, va verso l'auto del comandante del gruppo dei carabinieri di Palermo. Come vedete, abbiamo il taglio dell'ombra su quel muro. Volendo, chi avrà modo potrà verificare l'ora esatta. Le posizioni sono indicate. Guardate, la borsa, noi l'abbiamo vista, sparire dal teatro della strage. Noi sappiamo che la borsa a un certo punto ricompare sull'auto, perché viene prelevata, questo è ciò che sappiamo, dall'ispettore Francesco Paolo Maggi. Arcangioli non ci ha detto che cosa lui ha fatto della borsa. E, Presidente, veramente io non riesco a trovare parole di come sia consentito che quell'ufficiale sia rimasto in servizio, anzi abbia fatto progressione di carriera, un giorno in più dopo l'essersi rifiutato di dire lui che cosa ha fatto con quella borsa che conteneva l'agenda rossa. Che conteneva l'agenda rossa, io ve lo segnalo, è un dato provato, perché ce lo dicono le persone più vicine a Paolo Porsellino, che l'hanno visto partire. Come vedete ancora le fiamme non sono spente. Si vede, si intravede il dottore Ayala e secondo me si intravede al suo fianco il dottore Loforte, Presidente, lei avrà potuto verificare, torna indietro di qualche passo. Il dottore Ayala è quell'uomo con la camicia celeste, ecco. Come vedete, tra poco si vedrà un uomo accanto al dottore Ayala. Stanno guardando l'auto di Paolo Porsellino. Il colonnello Borghini rimane in zona. Lì si può vedere quasi il punto del cratere dell'esplosione. Gli arcangeli con una persona. Chi dice? Qualcosa. Non siamo riusciti a individuare chi sia. Presidente, ci faccia caso la corte a quale sia l'atteggiamento di arcangeli. Ayala lo si vede anche muoversi in gruppo. Altre persone pure. Lui è una monade. Come se in quel luogo avesse una missione. Abbiamo visto il dottore Ayala parlare a un cellulare. Rileggetevi lì la deposizione del dottore Ayala che ricordava di non avere un cellulare. Ne aveva uno, era intestato al figlio, che si chiama Ayala Paolo. In tempo successivo, quell'utenza fu in contatto con il dottor Maurizio Romano, di cui parlavo prima. Il dottor Maurizio Romano ha avuto contatti con Gaetano Scotto. Ayala al telefono ci serve anche per valutare le dichiarazioni della moglie e di Felice Cavallaro. Del quale, naturalmente, nessuno di voi ha visto il volto. Non compare mai in nessuna ripresa, né al fianco di Giuseppe Ayala, né nelle vicinanze. Grazie. 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 attenzione all'auto di Paolo Borsellino. Come vedete palesemente non svolge alcune attività di cooperazione all'attività da apprestare nei luoghi. Era un ufficiale del nucleo operativo di Palermo. È sempre lì, da solo, però è lì, in missione. Ormai l'auto ha tutte e due le portiere spalancate. Non abbiamo notizie della borsa, potrebbe già essere stata prelevata. Arcangeli, deponendo, ha detto di non ricordare se Borghini ci fosse. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Borghini è una delle poche persone con cui Alcangioli parla Gli avrà detto di avere avuto in mano la borsa di Paolo Borsiglino Gli avrà raccontato l'uso che ne aveva fatto Perché, Presidente, esattamente come nell'attività del Rosso Se quella di Alcangioli fosse l'attività straordinaria Nell'immediatezza fatta di impulso di un ufficiale, dei carabinieri Naturalmente fa una relazione di servizio Per forza di cosa? Cioè, Presidente, si va in una macchina in mezzo alle fiamme Si prende una borsa e ci si allontana Abbiamo terminato Presidente, poche notazioni su questo Perché era necessario mostrare alla Corte Lo sentivo proprio necessario Perché questo ci induce ad alcune riflessioni nella ricostruzione dei fatti La prima nota di rilievo Arcangioli arriva prestissimo in via D'Ameio Abbiamo visto che è una delle prime persone Sapevamo già che il dottore Ayala era una delle prime persone Il punto è che Arcangioli Arriva prestissimo E sembra non aspettare altro che il momento in cui prelevare la borsa Presidente Presidente, il funzionamento della mente umana Fuori dalla psicopatologia E non risulta che il colonnello Orbi del Capitano Arcangioli Abbia avuto difetti di questo tipo Tanto che ha progredito la carriera Se non ricordo male Fini pure al Quirinale per qualche tempo Tutti Lì Esplode via D'Ameio C'è un disastro Ci sono brandelli di cadaveri Pezzi di corpi Che scivolano dai muri dei palazzi E a distanza di non più Di 15-20 minuti Un ufficiale dei Carabinieri Piomba in via D'Ameio Preleva la borsa di Paolo Borsellino dalla sua auto E si allontana E da quella borsa Poi viene a mancare L'agenda rossa di Paolo Borsellino Che aveva il contenuto che abbiamo detto Immaginate cosa c'era scritto su Subranni Cosa c'era scritto su Contrada Cosa c'era scritto sul Viminale Cosa c'era scritto sulla Trattativa Immaginate Perché le frasi dette ad Agnese e Borsellino Sono quasi degli incidenti di percorso In certi momenti non è riuscito a trattenersi Ha avuto il bisogno E l'unica persona con la quale Ha sentito di potersi confidare Era sua moglie Ora Quello è un uomo che è andato in missione Perché Presidente non si può dire altro O è pazzo O è uno che è andato lì Sapendo che c'era la borsa E dopo l'esplosione la preleva Noi sappiamo da un altro test Il dottor Montalbano Che lì Fra quelle persone Ma non ne conosciamo il volto Quindi non siamo stati in grado Di individuarla C'erano anche due poliziotti in Borghese Uno dei quali non si capisce come mai fosse lì Perché in realtà Era stato trasferito a Firenze Molto punitivamente Perché sospettato di contiguità Presidente io Leggendo gli atti Su questa vicenda E vedendo le immagini Mi è sembrato davvero Di essere Precipitato Quasi 40 anni prima Di quelle scene Lei se la ricorda la guerra Fra gruppi di carabinieri E gruppi di polizia Intorno alla continuità Col bandito Salvatore Giuliano? Presidente L'agenda rossa di Paolo Borsellino Non c'è più E non l'ha presa Né Salvino Madonia Né Vittorio Tutino Né Totorriina Né Bernardo Provenzano Né nessun mafioso del mondo L'ha presa Un uomo di Stato Sembrerebbe una bestemmia Ma in realtà È lì la bestemmia Ed è Veramente angosciante Che da 24 anni E 6 mesi Questo paese Abbia potuto Digerire questo fatto Senza che Dal curinale Quotidianamente Il Presidente Della Repubblica Non vedesse come Un insulto Alla memoria Di Paolo Borsellino Ciò che accade In quel momento Sul suo cadavere Muore un uomo Quell'uomo E si sottrae Il bagaglio Delle sue Conoscenze Più Importanti Scompaiono Presidente ma abbiamo idea Se quell'agenda Non fosse stata Trafugata E ci fossero stati Magistrati E Investigatori Seri Che ne avessero potuto Fare uso Quali Sarebbero state Le conseguenze Lo dobbiamo La dobbiamo dare Una risposta Perché il fatto È accaduto Sembra Una follia Ma è accaduto Perché Presidente Lei È rimasto Perplesso Io ho detto Che sembra Che ci sia stata Una corsa Sulla agenda rossa E quindi Sulla borsa Fra carabinieri E polizia Perché Presidente Noi sappiamo Che anche la polizia Ci ha messo del suo Perché Non Un testimone Squalificato Ma Lucia Borsellino La figlia di Paolo Ti ha detto Ti ha detto Che fa Che fa cos'era Cos'era l'agenda rossa Per suo padre E che la cerca Vuole sapere Ma com'è possibile Che fino a fatto E quella è la reazione Del grande funzionario di polizia Altra notazione Presidente Perché Veramente Sembra Noi sappiamo Che di questa storia Ne abbiamo potuto parlare Perché ogni tanto Ci sono delle persone Per bene Una si chiama È un giornalista Si chiama Lorenzo Baldo E scrive per un Giornale online Che si chiama Antimafia 2000 Apprende delle notizie E anziché Fare lo scoop Le riferisce All'autorità giudiziaria Perché si cerchi L'agenda rossa Ed è dall'anno 2005 Che la stiamo Cercando Però qual è il punto? Non era un segreto Né Il valore Dell'agenda rossa Né Che le persone Più vicine A Paolo Borsellino Né lamentavano La sottrazione Presidente 25 luglio 1992 Tutta l'Italia Apprende Dalla voce Di Non dalla voce Dalle parole Di Antonino Caponnetto Che Agnese Borsellino Denuncia Denuncia Pubblicamente Paolo Borsellino E degli stretti congiunti Di Paolo Borsellino Viene lanciato pubblicamente L'appello Presidente Mi chiedo Ma c'è un solo atto Uno Uno Di indagine Una delega Una relazione di servizio Qualunque cosa Fino all'anno 2005 Che riguardi L'agenda rossa Di Paolo Borsellino No No Addirittura Noi abbiamo sentito Come testimone Il fantasma Felice Cavallaro Non compare mai Che non si ricordava Ne aveva scritto pure lui Presidente Una delle peggiori Dannazio memoria Che io abbia mai visto Una delle peggiori Quindi scompare il documento Nulla viene fatto I carabinieri Sicuramente se ne occupano O meglio Non i carabinieri Non l'arma Dei carabinieri Almeno uno Un ufficiale Dei carabinieri Che in quel momento È in contatto Con il comandante Del gruppo Dei carabinieri E si dirige Lì Noi non sappiamo Il capitano Arcangeli Ha detto Di avere controllato Il contenuto Certo in effetti Bisognava andare A cento metri di distanza Per controllare Il contenuto E infatti Ha fatto poi Una relazione di servizio Nella borsa Si dà atto C'è questo 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 Eppure il cresito Dei carabinieri Però lui L'ha detto Di avere controllato Il contenuto E perché? Sapeva dell'agenda rossa? Era quello Che cercava? E che magari Ha trovato? Io segnalo Presidente Che il capitano Arcangeli Ha rinunciato Alla prescrizione Per quel reato Egli è stato Prosciolto Con sentenza Definitiva Nel modo in cui Possono diventare Definitive Le sentenze Ex articolo 425 Rinunciando Alla prescrizione Quindi Quella sentenza Può essere Revocata Ai sensi Dell'articolo 436 La procura Do per scontato Che dopo queste Illustrazioni Riternate Ci sono degli elementi Nuovi Che meritano Una revoca Di quella sentenza Di proscioglimento Aggiungo Non ha avuto Alcuna sanzione disciplinare Qui l'uomo E come mai Vengono fatte Queste cose Senza sanzione disciplinare La logica Dà solo una risposta Era ciò che doveva fare Non ce n'è altro Oppure Viviamo in piena Anarchia Altra riflessione Presidente Ayala Sapete cosa Ha raccontato La ayala è passata Fra le mani Quella borsa E l'ha consegnata Non si sa A chi Prima Era un uomo indivisa E allora Uno può pensare Il colonnello Borghini Poi Però forse era In borghese Però non mi pare Che sia Arcangeli A un certo punto La borsa Passa di mano Pure Viene sfiorata Dal giornalista Felice Cavallaro Non si sa come In una seduta Medianica Non si sa come Come compare Felice Cavallaro Viene individuato Arcangeli Arcangeli cita Ayala Poi Arcangeli Viene spalleggiato Da un altro Testimone Il capitano Minicucci Ayala Non rimane solo Arriva un altro Testimone Di conserva Felice Cavallaro Il quale Quando Ha saputo Dell'esplosione Ha temuto Che fosse Il suo amico Giuseppe Ayala La vittima Telefona Alla moglie Di Ayala Noi sappiamo Che la moglie Di Ayala Vede Il marito In contemporanea Con il fumo Che sale Oltre il palazzo Quindi E' sicuro Che non era Ayala Il destinatario Dell'attentato Quindi Dobbiamo dare Per scontato Che tranquillizza L'amico Felice Cavallaro No Non ti preoccupare Non ti preoccupare E' un disastro Ma Giuseppe E' vivo In realtà Poi Felice Cavallaro Arriva In Via D'Amelio E Visto davanti a sé Giuseppe Ayala Lo abbraccia Commosso Perché aveva temuto Di averlo perso E' quella telefonata E poi Segnala Ad Ayala Vai dai tuoi figli Perché si è sparsa In giro la voce Che Sia stato tu La vittima Rassicurali Visto che sei senza telefonino E non li puoi avvertire E abbiamo visto Che era senza telefonino Abbiamo visto Presidente due cose Uno Aveva il telefonino Due I telefonini Lì in Via D'Amelio Subito dopo l'esplosione Funzionavano Io mi sarei aspettato anche Che tanto più All'epoca Ci fosse In quel Catacchisma Come conseguenza Anche che i telefoni mobili Saltassero Eppure quelli Fissi Ma lui Lì aveva il telefono Presidente Qui ci sono almeno Tre falsi testimoni Almeno E c'è un soggetto Sui quali C'è un Fumus Della notizia di reato Grande quanto Una casa Qual è la cosa strana Presidente? Che cosa dice Arcangeli? Dice L'ho portata Mi sono diretto Verso via Autonomia Siciliana Arrivato lì E uno non sa Le sospette Arrivato lì Appresi Che la competenza A svolgere le indagini Sarebbe stata del rossa Presidente Possiamo accettare Cose del genere Ma è o non è questo Un messaggio Obliquo Grande quanto una casa Presidente peraltro Erano morti 5 poliziotti Ma quale capitano Dei carabinieri Doveva credere A una panzana così? Cioè Vengono maciullati 5 poliziotti E le indagini Le delegano al ROS E poi le delega Chi? Paolo Porsellino Non era fuori ruolo Magistrato di Palermo Lo sanno tutti Che le indagini Deve fare la procura Di Caltanissetta E lui apprende Alle 17 e 20 Che la procura Di Caltanissetta Oppure in via Eccezionale Invegliata Per gli atti urgenti Il PM di Palermo Ha delegato il ROS Il PM di Palermo Il PM di Palermo Il PM di Palermo